C'è preoccupazione per i 96 dipendenti della COGE Mantovani, l'azienda con sede nella zona industriale di Padova che lo scorso giugno ha rilevato un ramo d'azienda della Mantovani, impresa di costruzioni che ha legato le sue vicende recenti anche al MOSE, impegnata come era nei lavori della gigantesca opera idraulica della Laguna. Per i 33 operai e una sessantina di impiegati infatti i sindacati temono non ci sia un futuro chiaro, attendono gli stipendi di novembre e dicembre e le tredicesime, una parte di loro è già in cassa integrazione e resta da capire cosa accadrà nel 2019. Quello che ci preoccupa ancora di più è il futuro occupazionale di oltre 90 lavoratori, di un'azienda che in qualche modo ha fatto la storia del settore delle costruzioni nella nostra regione ma anche e soprattutto in Italia. Noi chiediamo che vengano pagati i lavoratori sia per quanto riguarda la mensilità di novembre e la tredicesima, è stato pagato da qualche giorno solo il mese di ottobre dopo due mesi dopo aver solicitato più volte l'azienda a pagare quanto dovuto ai lavoratori. Attualmente i principali cantieri attivi per l'azienda sono tre, la piattaforma logistica di Fusina e i servizi degli ospedali dell'Angelo a Mestre e di quello di Trento. Oltre a questi un paio di cantieri importanti all'estero in Romania e Irlanda, tuttavia la Mantovani da cui arrivano i dipendenti ora alla COGE è sempre stata conosciuta anche per i suoi lavori legati al MOSE ma quei contratti attualmente non ci sono. Il MOSE in questo momento comunque è fermo perché la COGE Mantovani ha delle difficoltà a entrare nei cantieri del MOSE che porta proprio a una difficoltà anche che hanno i lavoratori sia del MOSE, quelli che lavoratori che lavorano nei cantieri ma anche degli impiegati che erano quelli che comunque seguono tutta la parte tecnica e amministrativa legata ai cantieri in Italia. Vista anche la situazione generale del settore negativa in Italia la paura è tanta e le richieste chiare, il pagamento degli stipendi ancora in sospeso e una trattativa approfondita con la proprietà e garanzie per i posti di lavoro.